Questo spazio si chiama Together, è una casa, il posto più informale possibile per fare in modo che ispirazione e conoscenze possano essere tramandate. Noi siamo l'associazione Rovescio, un'organizzazione non-profit che si occupa di molte attività. In particolar modo noi abbiamo iniziato a interessarci di street art. Cosa vuol dire esprimersi attraverso una fotocamera? Significa capire il linguaggio della fotocamera, cioè parlare attraverso il suo alfabeto e questo qui è un po' il percorso che faremo insieme. Qui dentro avviene la fotografia, è tutto qui. Volevo parlarvi del potere di social network. In social network la radea virtuale diventa potenzialmente infinita. Mi piaceva immaginare queste tre signore vecchiette che si consultano con le scarpe più comode per i piedi conti e via dicendo. Tassetti fondamentali per capire che cos'è la grafica vettoriale. I principi della grafica e l'utilizzo del software. In questo caso tutta una parte che è relativa al pensiero, che è quello che va da vedere al segno, e poi tutta una parte che è relativa a come utilizzare il software per veicolare il pensiero. Sono due domande per ogni corso. Quindi devi social media, devi grafica e te devi discorrendo. Grazie a tutti!